Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Matched Betting. A inizio gennaio ho infatti deciso di provare questa strategia per vedere quanto effettivamente si riuscisse a guadagnare e con quanto sforzo. Vi dico subito però che appena ho iniziato ho capito che non avrei continuato a lungo anche perché almeno all'inizio il Matched Betting richiede un po' di tempo per comprendere bene i meccanismi e per levare iscrizioni. Credo però che se fatto bene sia un ottimo metodo per guadagnare almeno all'inizio anche oltre 2000€ in un singolo mese. Per quanto mi riguarda come ti mostrerò nella parte finale di questo video sono riuscito ad ottenere un buon guadagno soprattutto considerando che ci ho dedicato davvero pochissimo tempo. Prima di tutto però vediamo cos'è il Matched Betting e perché questo meccanismo permette di guadagnare così tanti soldi in maniera completamente legale e priva di rischi. Il Matched Betting è una strategia che permette di guadagnare dai siti di scommesse sportive grazie ai bonus che questi siti danno ai propri iscritti per invogliarli a scommettere. Tuttavia non ha nulla a che fare con il gioco d'azzardo e con la fortuna perché è semplicemente un modo matematico per guadagnare soldi in ogni caso e a prescindere da come vanno le scommesse che piazziamo. Infatti il Matched Betting è pura matematica e consiste nel fare per lo stesso evento una scommessa ed una controscommessa che possiamo chiamare bancata in modo che qualsiasi sia il risultato finale riusciamo a bilanciare l'importo che abbiamo perso da una parte con quello guadagnato dall'altra. Proviamo però a fare un esempio concreto così da capirci bene. Immaginiamo un ipotetico sito di scommesse sportive che potremmo chiamare Plutobet. Plutobet regala a tutte le persone che decidono di iscriversi 10€. Così decidiamo di iscriverci a Plutobet e appena iscritti abbiamo subito 10€ gratuiti con cui piazzare la nostra prima scommessa. E vi chiederete a questo punto ma perché non prendiamo direttamente i soldi che ci hanno regalato e chiudiamo il nostro account? Non possiamo farlo perché chiaramente a Plutobet sono abbastanza furbi da dire Ok, noi ti diamo 10€ ma tu con quei 10€ puoi soltanto fare una scommessa. Se vinci la scommessa ti prendi tutti i soldi che hai vinto altrimenti non hai né vinto né perso nulla. A questo punto potremmo quindi decidere di piazzare una scommessa e sperare nella sorte. Questo però sarebbe gioco d'azzardo che non ci dà alcuna certezza sulla vincita finale. Quello che possiamo invece fare è trasformare quei 10€ in una vincita sicura proprio con il matched betting. Tornando al nostro esempio possiamo andare su Plutobet e per la partita Topolini contro Paperini giocare 10€ sulla vittoria dei Topolini. Poi però per assicurarci di non perdere ci basterà andare su un secondo sito che possiamo chiamare Tipo Fair dove scommettiamo sulla sconfitta dei Topolini. In questo modo qualunque sia il risultato da una parte perderemo 10€ e dall'altra ne guadagneremo 10. A questo punto poiché i 10€ che avevamo avuto in regalo sono ora stati scommessi possiamo finalmente prelevarli o da Plutobet o da Pippo Fair. In realtà il guadagno finale sarà sempre un po' più basso dei 10€ che abbiamo inizialmente ricevuto in bonus. E questo chiaramente perché i siti di scommesse generalmente piazzano le loro quote in modo che non sia mai possibile vincere al 100%. Ma poiché i soldi che stiamo scommettendo sono comunque soldi bonus che abbiamo ricevuto in regalo anche vincendo un po' meno di 10€ staremo comunque guadagnando. Naturalmente però il nostro obiettivo deve sempre essere quello di guadagnare quanti più soldi possibile dai bonus che riceviamo e quindi fare in modo che le differenze tra scommessa e bancata siano le più basse possibili. Ed è per questo che ci vengono in aiuto diverse piattaforme che offrono strumenti per calcolare le migliori combinazioni di scommesse per guadagnare il più possibile. Tra questi siti il più utilizzato in Italia è sicuramente NinjaBet che io stesso ho utilizzato e che è anche quello maggiormente consigliato qui su YouTube. Con NinjaBet verrai guidato passo passo attraverso le varie piattaforme di scommesse online che potrai guadagnare fino a 2000€ nel primo mese. C'è chiaramente un costo di abbonamento mensile di poco meno di 20€ o 12€ se paghi un anno anticipato ma ti assicuro che quei 20€ ti recuperi già con i primi 2 o 3 bonus. Nel caso tu voglia provare ti lascio qui sotto in descrizione il link con il quale puoi iscriverti a NinjaBet e iniziare subito a guadagnare soldi con il matched betting. Ora come ho detto all'inizio ti mostrerò quanto io ho guadagnato con il matched betting e NinjaBet. Prima però devo premettere che ho utilizzato questo servizio soltanto per 2 o 3 giorni perché poi sono partito per un viaggio a Dubai e non ho più trovato il tempo. Il mio obiettivo tuttavia era solo quello di verificare che fosse un metodo davvero adatto a tutti e quindi posso dire di essere davvero molto soddisfatto del risultato. A conti fatti ho guadagnato dal matched betting 106,82€ a cui però devo sottrarre il costo dell'abbonamento a NinjaBet di 19,98€ quindi alla fine il guadagno netto è stato di 86,84€ che per un esperimento di poche ore credo sia assolutamente un buon risultato. Anche perché soprattutto all'inizio un po' di tempo va via per leggere le varie guide che però andando avanti non sono più necessarie. Avrei potuto anche guadagnare molto di più nello stesso tempo puntando su bonus più sostanziosi ma avendo poco tempo a disposizione e pochissima esperienza ho preferito concentrarmi sui bonus più piccoli. Ora all'inizio del video ho detto che ho subito capito che non avrei fatto matched betting a lungo e per trasparenza ti dirò anche i motivi. Il primo motivo è che seppur questo metodo all'inizio ti permette di guadagnare molti soldi con poco sforzo una volta terminati i bonus iniziali i guadagni mensili calano a qualche centinaia di euro al mese e dunque preferisco spendere il mio tempo in attività più a lungo termine e magari inizialmente non pagheranno così tanto ma che sono molto più scalabili nel tempo. Il secondo motivo che forse è anche più importante del primo è che l'iscrizione ai vari siti di scommesse richiede l'inserimento di dati personali e di contatto che sarebbe meglio divulgare il meno possibile soprattutto se non vogliamo poi ricevere ogni giorno telefonate da operatori di call center che cercano di venderci questo o quell'altro prodotto. Per questi motivi dopo aver iniziato a provare questo metodo ho fatto giusto le scommesse che mi servivano per ripagare l'investimento iniziale nell'abbonamento di NinjaBet e poi ho smesso. Questa però è una mia valutazione personale in base alla mia situazione tuttavia credo che per un giovane che vuole guadagnare qualche centinaio di euro al mese o per un lavoratore che vuole arrotondare lo stipendio il match betting sia un'ottima opportunità e vi assicuro che se anche io fossi scettico all'inizio dopo averlo provato posso dirvi che i 20 euro dell'abbonamento li ripagate davvero dopo le prime due scommesse. Quindi ti invito nuovamente a dare un'occhiata al link che ti ho lasciato in descrizione e a valutare se può essere per te un buon metodo per guadagnare qualche soldo extra anche perché in Italia i soldi guadagnati dalle vincite sulle scommesse sportive non sono tassati. Io ti ricordo che escono ogni settimana sul mio canale nuovi video su guadagno online finanza personale risparmio e investimento quindi ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di aiutarmi a promuoverlo con un like intanto se ti va scrivimi nei commenti cosa ne pensi sul match betting e se l'hai provato com'è andata. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video.